Gremito il Museo Civico di Palazzo Forte ad Ariadno in Orpino per il tradizionale concerto di Capodanno, un evento tanto caro al compianto Geri d'Alessandro, venuto a mancare negli anni scorso, si è portato avanti con grande abbenegazione e impegno dal delegato alla cultura, Emerico Maria Mazza. Il concerto di Capodanno, che ormai è una tradizione per la città di Ariano e per il classico Ariano, che stasera si rinnova con un concerto di elevato valore artistico e di grande importanza, con l'orchestra del Kazakistan, con il tenore Aldo Caputo, che è al suo ritorno qui a Ariano e che conosciamo bene quanto valga la sua voce, e con una pianista straordinaria che si esibirà nel concerto 1052 di Johann Sebastian Bach. Un appuntamento con molti brani, lungo, per tutti i gusti, e che vogliamo rinnovare tutti gli anni. Andremo avanti fino al primo di maggio con un'altra orchestra, tra l'altro in collaborazione con Matera, capitale della cultura 2019. Questo è l'anno di Matera, quindi noi siamo anche un po' cooperativi e collaborativi con quella che è una realtà ormai internazionale e anche Ariano sta diventando una bella realtà internazionale, abbiamo avuto i bei concerti, ne avremo altri.